Un saluto a tutti gli studenti che si stanno godendo gli ultimi giorni di vacanza e che seguono numerosi il Meteo.it. Previsioni per mercoledì 3 settembre, il ciclone Elettra insiste sulla nostra penisola ancora con piogge soprattutto al centro-sud e qualcuna anche al nord. Ecco il dettaglio al nord, cielo in prevalenza nuvoloso su gran parte delle regioni con deboli piogge che interesseranno soprattutto le zone centro-meridionali della pianura padana e localmente il Trentino Alto Adige, più soleggiato in Piemonte, Liguria e Venezia Giulia. Al centro nuvolosità diffusa con precipitazioni a carattere di temporale sulle coste adriatiche, sugli Appennini, locale piovigine in Toscana, parzialmente nuvoloso sul Lazio e ampiamente soleggiato in Sardegna. Ed eccoci infine al sud, sempre perturbato su buona parte delle regioni con piogge più intense sui settori adriatici. Attenzione al Gargano e al Salento, precipitazioni frequenti anche sul basso terreno, fenomeni più deboli nel corso del pomeriggio. Venti sempre moderati o forti dai quadranti settentrionali su gran parte dei bacini, temperature minime che non subiscono particolari variazioni con valori che saranno compresi tra i 13 e i 24 gradi su tutta la penisola. Durante il giorno ci attendiamo 22 e 28 gradi al nord, tra i 21 e i 29 gradi al centro e i 20 e i 28 gradi al sud. L'aggiornamento si conclude qui, Elettra continua ad agire al centro ancora con tanta pioggia e temporali. Scopri se la tua città sarà raggiunta dalla pioggia scaricando la nostra applicazione per cellulari. Il meteo.it è sempre vicino a te.